Infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera mantengono condizioni di moderata instabilità sulla nostra penisola. Lunedì 13 giugno in Toscana, cielo in prevalenza nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone interne, associate a locali rovesci e occasionali temporali più probabili nelle ore pomeridiane. In serata peggioramento a partire dalla costa settentrionale, venti deboli da ovest e nord ovest, mari mossi in particolare ai bacini settentrionali, temperature massime in lieve rialzo. Cielo nuvoloso con possibili deboli piogge nella piana in Valle del Serchio. A Lucca nella piana temperatura minima 16, massima 26 gradi, in Versiglie sul litorale minima 18, massima 22, in Garfagnane zone montane minima 11, massima 22 gradi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!